Io sto tranquillo perchè ho fatto il vaccino, ho fatto il Swiffer perchè mi ha fatto... Oh tu sai che l'ho fatto anche io il Swiffer? E' soltanto, ho fatto soltanto una dose Una E sai come ha detto la dottoressa? E lei è coperta il 50% E' bel lavoro E adesso mica ho capito che pacca è coperta Sarà coperta la pacca destra O sarà coperta la pacca sinistra Ma capite? 5 agosto, quindi BCC Arena, il titolo del vostro spettacolo La ricreazione e qui c'è tutta clavia Cosa dire, cosa dire, spero che vi piaccia Partecipate numerosi e non posso svelare niente chiaramente perchè altrimenti mancherebbe la suspense Per cui partecipate e noi cercheremo di dare del nostro meglio Se tu non vuoi svelare nulla, come si dice, la curiosità è femmina e io è una donna che bisogna che io mi rivolga Allora qualche anticipazione dobbiamo darla In questa ricreazione ci saranno dei personaggi che solleticheranno sicuramente la nostra curiosità Sì, diciamo che sono dei personaggi spirituali Di più non diciamo E possiamo dire che cercheremo di spiegare quello che è successo miliardi di anni fa E perché oggi vediamo succedere certe cose L'idea è nata da leggendo delle poesie di Gabbianelli E da lì abbiamo sviluppato questa idea Di più non dico Va bene, allora invitiamo i telespettatori Sì, va bene Noi saremo in sede venerdì 5 agosto Speriamo che veniate numerosi Speriamo di divertire anche Che si diverte il pubblico Assolutamente sì, vi aspettiamo venerdì 5 agosto Ma cosa sentiamo a me? Per quanto è andata questa? Oh cara mia questa, sono molto affezionato eh Questo sarà stato il 1950 E il 1951 52 53 Ma guarda che ma guarda